Ciccine, cotaletti e parmigiano, ma battiamo pochi cotaletti e fanno un po' più fine. Sì, sono belli fine fine. Ma mettiamo sette uova. Mettiamo sale, pepe e parmigiano. E giucerieri, vedi? Battiamo l'uovo. Cotaletti ci potete andare l'uovo e il mcnubre come. Mettiamo l'uovo e le fighi di cotaletti. Non vuoi girarmi. Ma sarebbe che ciccine parmigiano. Mettiamo la zarza. Mettiamo 30 minuti sotto il fuoco. Ma prepariamo un bel sanguiccio a parmigiano. Non dimentiamo la cotaletti. Ma ci potiamo durare la mozzarella. Mettiamo 30 minuti sotto il fuoco. La sanguiccia è pronta. Viro. Il cotaletto è pronto. Il sanguiccio è pronto. Questi udini per questa sera per la famiglia. Thank you very much.